Lunedì 15 agosto, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa, subito i quotidiani, subito primo piano Molise che apre con la politica, centrodestra primo nei sondaggi, ma è caos, candidature, Tartaglione ripete e decide, Roma con il taglio dei parlamentari, troppi i pretendenti per pochi seggi, la coordinatrice azzurra senza parole, aspetto novità dal nazionale, concreto invece il fronte progressista, Gianfagna parlerà dopo l'ufficializzazione, 5 Stelle, Federico, bene il listino di Conte. Le altre notizie, Petacciato grave, il 49enne trasportato in elicottero a Pescara e in taglio centrale, Colli a Volturno, precipitano tre caccia, morti piloti, l'incidente aereo nel 49, la tragedia ricostruita in un volume da Giuseppe De Dona e Antonio Lanza. A Termoli, l'incendio del castello a mezzanotte, finita l'attesa, Isernia nuova sede per il comando dell'arma con i fondi del PNRR, mentre a Venafro, parliamo di turismo, anche a Venafro la sua mappa sarà aggiornata di anno in anno. A Isernia ha dato tanto al Paleolitico il largo del museo a Piero Angela, Preistoris di Emilio Izzo avanza la proposta di intitolazione. Ma torniamo alle vicende politiche, all'apertura con il centrodestra che è fermo alla ricerca della quadra. Approfondiamo l'argomento con il pezzo all'interno di Primo Piano Molise a pagina 3. È caos calmo, così lo definisce Primo Piano. I candidati del PD attendono l'ufficialità, il movimento scosso dal listino di Conte, mentre il centrodestra è senza parole. Sembrano essere ancora, a carissimo amico, le interlocuzioni che coinvolgono Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Torniamo sulla prima di Primo Piano Molise con lo Sport in taglio alto. Prima però c'è il punto di Vittorio Sanese. Eccolo qui, Molise dove restare è più difficile che scappare. E poi, dicevo, lo Sport con il Campobasso. Domani la prima seduta per la truppa affidata a mister Prosperi. Sullo sfondo c'è la decisione del Consiglio di Stato in programma il 25 di agosto. Poi Futsal Coppa della divisione Sporting e Venafro in campo il 10. Sette giorni dopo il circolo la nebbia. Giudo, Mondiali Junior in Ecuador, Luigi Centracchio centra una nona posizione. Lasciamo primo piano, andiamo sui quotidiani nazionali. Iniziamo come sempre dal Corriere della Sera. Quasi tutti i quotidiani aprono con le vicende politiche. Sì, perché la campagna elettorale sta per entrare nel vivo. L'ultima sfida sulle liste. Fratelli d'Italia via il reddito di cittadinanza. Berlusconi non penso al Colle. Intanto sono stati presentati 101 simboli. Oggi le scelte del Partito Democratico sulle candidature parlamentarie. Lite nel Movimento 5 Stelle. Le parlamentarie che sono in programma invece domani. La Repubblica, vediamo il titolo, è sulla Meloni. La Meloni che smonta le riforme di Draghi. Questa è l'apertura scelta da Repubblica diretto da Maurizio Molinari. Nei piani della destra lo stop alle privatizzazioni e la rinegoziazione del PNRR. i rischi per lo scudo anti-spread Bonino. Cannabis e aborto. I diritti fanno la differenza. Polemica nei 5 Stelle per i 18 capilista. Designati da Conte. Letta sfida la Lega a Vicenza. Casini candidato a Bologna. E intanto in Afghanistan, un anno dopo, eutanasia di una nazione. Andiamo sui quotidiani romani. Il messaggero con le riforme e con la mossa di Meloni. La leader di Fratelli d'Italia apre al centro-sinistra presidenzialismo con la bicamerale o una costituente. Il PD non risponde e per idem c'è la grana. Liste calenda. Il nostro programma è l'agenda Draghi. Verso il voto da assist a quota 10. Ecco il dizionario per capire i politici. E poi i bianchi. Gli insegnanti ci saranno. Aereatori nelle aule. Non servono l'intervista al ministro e la ripresa delle scuole. E poi Ferragosto atipico. La festa dell'assunta in questa estate. Troppo caotica. Mentre in taglio centrale il messaggero propone una foto delle due romane portate alla vittoria la Lazio e la Roma da Immobile e da Brian Cristante. Lazio e Roma. Sprinte con Ciro e Cristante. Immobile rimonte il Bologna. Bene Di Bala e compagni a Salerno. Blackout da Zon e tantissime proteste. Andiamo sull'altro quotidiano romano. Il tempo che non è mai tenero nei confronti della sinistra e in questo particolare periodo nei confronti del Partito Democratico. Un decennio di danni PD. Questo il titolo disastro. Dem la sinistra di governo consegna un paese alle corde. Tutti gli indici col segno meno. Dal 2011 al 2021 crescita negativa. Mentre l'Europa correva da noi più tasse e salari bassi. Chi arriva a Palazzo Chigi troverà un elenco di emergenze. Prezzi, gas, rete unica e banche. Anche il tempo celebra le vittorie delle romane. La Lazio soffre ma vince e rimonta. Alla Roma basta un gol a Salerno. Buona la prima di campionato per le squadre della Capitale. Lasciamo il tempo. Diamo uno sguardo invece al Fatto Quotidiano che apre con questa denuncia. Ci risiamo. Gli ex alleati di Toti scrivono agli elettori per farsi dare le schede. Voto estero. truccato. Ecco le email dei brogli centristi. In taglio alto. 5 Stelle, Conte, Schiera, Cafiero De Rao, Vassallo e altri esterni. Domani voto online su autocandidati e big. Mentre in taglio centrale il fatto economico, il disastro, Ita in svendita. Intanto però si pagano i premi. Sotto la testata, quest'altra notizia, non solo le badanti. Bucarest ora esporta le schiave del sesso. Sono un milione le rumene sottomesse dai clan. Lasciamo il Fatto Quotidiano. Guardiamo la prima della verità, che è l'unico quotidiano che sceglie una apertura non politica, uno studio shock, così viene definito. La verità sugli effetti avversi, alterazioni nel sangue dei vaccinati. i tre medici pubblicano una ricerca sulle persone inoculate con l'MRNA. Nel 94% dei casi hanno trovato anomalie nei globuli rossi e la presenza di particelle di dubbia natura. Mai visti mutamenti del genere. Mistero sui morti Covid. Bassetti alla verità. Cifre illogiche. Indaghiamo. Bene, c'è anche in taglio centrale un richiamo alla flat tax. Lo vediamo insieme. Basta bugie. Vi spiego la flat tax. Lo fa il leghista, il senatore leghista Armando Siri, che nei giorni scorsi, come ricorderete, è stato anche a Termoli. Siri che ha scritto la proposta. Costa troppo, balle. Prevediamo 13 miliardi. Le coperture ci sono e non è vero che premiamo i ricchi. Ultimo quotidiano, considerando che il lunedì non è in edicola il sole 24 ore. E allora, ultimo quotidiano, la Gazzetta dello Sport con Juve, l'asso di Ferragosto allo Stadium Colsassuolo. parte la corsa Scudetto, Vax cerca la squadra giusta e ora il Barcellona ha fretta di dare Depay ai bianconeri per poter tesserare altri calciatori. E intanto Napoli, Osimen, è il nuovo leader. Arriva Don Belè e per le Romane, Roma e Lazio, noi ci siamo. Cristante Lanciamou, di bala fermo al palo, immobile, spinge Sardi. E poi Radu senza pace dal flop Scudetto alla Cremonese K.O. Sono paperissime, un altro errore a Firenze. Tante buone parate, poi un errore clamoroso. E vi faccio vedere anche questo testa a testa tra Conte e Tuchel. Tuchel che lite la Premier come un ring. La lite furibonda al termine del pareggio della gara con il pareggio 2-2 tra Chelsea e Tottenham. E infine Pioli se la ride, avanti con Giroud, Diaz e Rebic. E De Kettler fa già i numeri. E Inzaghi invece urla avvisi al club sul mercato e più coraggio nei cambi. di come è cambiato il tecnico dell'Inter. Bene, è tutto. Prima dei saluti, il palinzesto. Cosa troverete oggi sulla nostra rete? C'è Conto alla Rovescia. Conto alla Rovescia che tornerà in diretta venerdì 26 agosto. Poi alle 14 l'informazione. Troverete proprio me. E alle 16 punto verde, alle 19.30 ancora l'informazione. Alle 21 fuoco incrociato con Rita Iacobucci. Alle 23 l'ultima edizione del nostro notiziario. Bene, è davvero tutto. Buon Ferragosto. Arrivederci. Grazie per averci scelto. Grazie per aver guardato il video.